Musica 21 ottobre 2016, oggi è una giornata di sciopero, che cosa rivendicate? La caratteristica di questo sciopero è proprio quella di voler respingere un modello di guerra tra poveri e di voler quindi rigettare ogni tentativo di distinguere garantiti e non garantiti, quindi lavoratori precari, disoccupati, migranti, che la deriva è comune. L'erosione dei diritti nel mondo del lavoro, la diminuzione dello stato sociale, quindi tutto quello che riguarda il diritto alla casa, il diritto alla sanità e anche i rischi autoritaristici che stanno dietro alla riforma costituzionale. E oggi siamo in piazza, non solo a Milano ma in tutto il paese. Possiamo dirvi già da adesso che stiamo bloccando gran parte del paese grazie ai lavoratori, ma anche grazie alle forze sociali e politiche e studentesche. Oggi in questo corteo l'abbiamo condiviso anche con tutti gli altri, non vuole essere solo un corteo del mondo del lavoro, ma del mondo di chi vive e che soffre in questo paese. Se tu vai a chiedere un'ecografia, un esame, una visita col pubblico, aspetti tanto, fai prima a morire, invece se dici io pago subito dopo dieci minuti te la danno. Questo non va bene, allora il povero deve morire, il ricco deve vivere? No, non ci sto. L'obiettivo è la privatizzazione, praticamente ci stanno portando via tutti i servizi fondamentali, quelli che servono ai cittadini, non solo la sanità ma anche l'istruzione. Ci sono insegnanti che aspettano un concorso da anni, professori che hanno fatto recentemente il concorso, l'ho scritto e sono in attesa ancora della prova orale e non sanno nemmeno quando la faranno. Insomma, i servizi devono funzionare perché altrimenti le tasse cosa le paghiamo a fare? Quando noi lavoratori della scuola scioperiamo, scioperiamo sì per i nostri diritti ma che coincidono comunque anche con i diritti dei bambini e purtroppo la scuola in questo momento sta subendo una svalutazione enorme sotto tutti gli aspetti. Renzi si è presentato dicendo che rottamava il vecchio a due anni oltre distanza, che cosa ha rottamato secondo te? Non ha rottamato niente, non ha rottamato proprio niente, ha rottamato solo quello che fa comodo a lui, anzi è riuscito anche a disgregare il suo partito e quindi a creare ancora più confusione e Renzi non è sicuramente una persona di sinistra e forse sarebbe il caso che lo dichiarasse. Il Job Act che ormai è certificato che non ha funzionato ha dato un po' di soldi alle imprese e non ha dato garanzie ai lavoratori. Il Presidente del Consiglio domani faremo una manifestazione a Roma, una grandissima manifestazione per chiedere che se ne vada e per chiedere anche che i lavoratori votino no al referendum costituzionale perché sostanzialmente va a peggiorare la democrazia nel paese. Il fatto di come stia procedendo il governo Renzi ci dice che sta marciando verso una dittatura aperta di moderno fascismo per imporre le politiche di attacco ai diritti dai lavoratori, agli studenti, ai pensionati, alle classi subalterne. Il governo dice che per cambiare veramente il paese, perché le cose vadano veloci, bisogna cambiare la Costituzione. Tu sei d'accordo? No, non credo. Io credo che invece per cambiare le cose nel nostro paese bisogna cambiare tutti loro, rasere al suolo tutto e ricominciare da capo. Ma secondo te con tutti i problemi che ci sono in Italia perché i governi di destra e di centro-sinistra si affannano a cambiare la Costituzione come se fosse l'origine dei problemi di questo paese? Perché? Perché la Costituzione che abbiamo noi è di fatto il frutto della resistenza ed è il frutto di un'opera di mediazione che ai tempi quando è stata scritta prevedeva anche la difesa dei diritti dei lavoratori. La nostra Costituzione è un maluardo ancora per la difesa dei diritti dei lavoratori e quindi è essenziale per il grande capitale eliminarla, eliminare tutti quegli aspetti della Costituzione che in qualche modo ancora garantiscono un minimo di diritti. La Costituzione con il suo impianto istituzionale e con i principi che la ispirano garantisce la partecipazione dei lavoratori alla gestione del potere ed è per questo motivo che la vogliono cancellare. JP Morgan l'ha chiaramente espresso nel 2013 con un documento di 16 pagine in cui diceva che le Costituzioni progressiste europee vanno eliminate, vanno cambiate perché ispirate dall'antifascismo all'interno del quale i socialisti e i comunisti erano troppo forti. È necessaria una svolta nella politica nazionale e questa svolta avviene se sono i lavoratori a organizzarla. Potere! 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 Potere a chi lavora! Potere! Potere! Potere a chi lavora! Potere! Potere! Potere a chi lavora! Riteniamo che la data del 4 dicembre sia una data fondamentale, sia una data che può anche diventare però un'occasione per, come diceva qualcuno, dall'età menascono i fiori, nel senso che c'è una parte di italiani che non si è mai ribellata a questa forma di restrizione dei diritti e che oggi capisce che questa restrizione ha un unico filo conduttore, un filo conduttore che viene anche dall'estero, dalla JP Morgan. Abbiamo visto anche che l'ambasciatore americano e piuttosto che Obama sono intervenuti nella campagna elettorale italiana e anche questo è sinonimo di un arrischio o comunque di un condizionamento della sovranità popolare. Quindi noi oggi siamo qui perché crediamo che il mondo del lavoro non debba essere scisso dal mondo delle lotte, lo stiamo insieme ai studenti e ai movimenti e speriamo che oggi sia soltanto l'inizio anche per dire che questo governo Renzi si è posto in condizione peggiorativa rispetto ai precedenti e ha rottamato soltanto i diritti praticamente.